ci crediamo alla teoria delle sinfonie pari che sono quelle del buon umore ma guardando le tonalità certo e guardando le c'è re maggiore la seconda si bemolle la quarta la sesta fa maggiore e l'ottava ancora fa maggiore però diciamo che no non direi che sono le sinfonie dove mettiamo loro e do maggiore della prima o la maggiore della settima no 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 diciamo che le sinfonie pari 2468 sono sinfonie che per un qualche motivo a parte la sesta la pastorale per diciamo seconda quarta ottava sono un po considerate le cenerentole betoveniane e invece sono le sinfonie che amo di più quindi o sono sbagliato io secondo me la seconda sinfonia è una grandissima sinfonia il grado di sviluppo che c'è tra la prima e la seconda cioè in quei tre anni betoven ha fatto dei passi in avanti straordinari la seconda a un problema che è seguita dall'eroica e questo probabilmente betoven non lo sapeva quando l'ha scritta e quindi io trovo la seconda forse la sinfonia più ricca di idee ci sono delle idee straordinarie nella seconda non c'è la complessità di trattamento del materiale che poi utilizzerà betoven nell'eroica ma la ricchezza di materiale pensando anche il secondo movimento l'introduzione per esempio l'introduzione al primo movimento della seconda è la più vasta conosciuta quei tempi cioè un'introduzione lenta che ha quasi un peso non dico come un movimento a sé stante ma come un gesto molto forte rispetto per esempio l'introduzione della prima che era compressa in pochissime battute che poi era la misura delle delle introduzioni di haydn e di mozart no nella seconda c'è un'introduzione assai vasta il primo movimento ha dei contrasti al suo interno straordinari nel senso che per esempio betoven ama molto le triadi accordali infatti il tema della seconda è la e poi c'è la triade di re maggiore e lui con questo riesce a creare un un edificio strutturale straordinario ad un certo punto mette anche un tema di marcia già fa presagire addirittura nell'introduzione c'è una battuta che la citazione letterale del primo movimento della nona nella stessa tonalità re minore e addirittura c'è un un esempio nella prima dell'inizio lo sviluppo alla fine della dell'esposizione dove addirittura utilizza una tecnica strumentale che utilizzerà nella quinta quindi è una sinfonia estremamente avveniristica una è una sinfonia dove betoven esplora le possibilità estreme che lui poteva raggiungere nel 1802 1803 e nel secondo movimento anche per esempio ci sono tre idee tematiche estremamente raffinate estremamente belle per esempio il primo cambio armonico avviene la terza battuta questo cosa significa che betoven riesce a mantenere una una situazione di immobilità per due battute senza che cambi niente poi ad un certo punto va a una corda della dominante con un movimento piccolissimo quasi impercettibile cambia il colore e quel cambio di colore del semitono diventa la base poi per la partuta successiva di fare questa discesa cromatica queste sono cose tecniche per dire cosa che per esempio quando tu non muovi niente crei una grandissima stabilità il semitono e la situazione di massima instabilità in musica ecco lui riesce ad accostarle in maniera osale così avveniristica e così coraggiosa come nessuno era riuscito a fare prima lo scherzo che è la prima volta in una sinfonia dove viene il nome scherzo perché prima si chiamava sempre minuetto addirittura è folgorante in questa io un pom 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 in questi in questi orchestrazioni a flash sembra quasi di essere una discoteca dove c'è luce blu luce rossa luce gialla e che si alternano lo stesso modo di scrivere ma chi aveva scritto così prima nessuno poi questo tecnica di scrittura verrà utilizzata in maniera incredibile e straordinaria nella nel primo movimento dell'eroica ma è lì che lo studio di e lì che lui comincia a utilizzarlo e poi il finale secondo me è l'esempio di opera buffa che lui non è mai riuscito a scrivere che lui non ha scritto solo il fidelio che è un'opera estremamente drammatica e non ha mai scritto un'opera buffa anzi diciamo che l'opera buffa gli davano anche un po fastidio cioè lui considerava così fan tutte non un'opera degna del genio di mozart eppure nell'ultimo movimento della seconda abbiamo degli come dire degli elementi per credere che se avesse scritto un'opera buffa sarebbe andato in quella direzione sembra quasi un ubriaco che barcolla cioè non è un e il resto del commento di gente che fa gossip hai visto e ripete e poi si entra in questo in questo turbinio pazzesco di queste trovate strumentali quindi una sinfonia estremamente raffinata una sinfonia lunga è una sinfonia che supera la mezz'ora in mozart forse solo la jupiter supera supera la mezz'ora invece la seconda di beethoven arriva 34 35 minuti una sinfonia lunga per quei tempi chiaro poi dopo arriva a 50 minuti dell'eroica i 35 della seconda sembrano niente sembrano poca cosa e quindi la trovo una sinfonia assolutamente straordinaria assolutamente avveniristica e lo spazio di tempo che intercorre tra la prima e la seconda che sono tre anni in realtà nello sviluppo beethoveniano sono 20 gli anni c'è lo sbalzo è enorme però il paradosso se leggiamo vita e creazione diciamo così è che la seconda nasce nel periodo del testamento di eligenstead assolutamente questo è vero ma infatti è la sinfonia ho detto con più idee tematiche e dove i contrasti drammatici e tematico armonici e ritmici è più forte con questi sforzati sui tempi deboli sulle sincopi indicano una situazione di sofferenza da parte di beethoven o perlomeno quasi un atto di rivolta per lui che si considerava la persona più talentuosa che aveva ricevuto questo talento e questo talento rischiava di essere messo in dubbio da questa menomazione all'udito che di cui cominciava a sentire i primi primi effetti quindi rispetto alla solarità do maggiore della prima sinfonia dove si vede un beethoven assolutamente in salute che ha in mano il suo futuro qua si vede un compositore assai più capace di quello assai più consapevole di quello che vuole però con questo con questo spettro che incombe con questo non sapere come andrà a finire e quindi ci sono ci sono molte sono molte tensioni nella seconda anche il fatto che lui voglia in questo ultimo movimento esagerare l'elemento comico è come uno che non ci vuole pensare no è come uno che vuole come dire esorcizzare la paura e il dolore con un eccesso di di buon umore e quasi di divertimento quindi è una sinfonia ripeto estremamente segmentata frammentata molto angolare per questo naso massima straordinaria